Il comune di Roccadaspide ha ricevuto un importante contributo dal Ministero degli Interni. Si tratta di 70.000 euro per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Questa somma stanziata con la legge 29-2019 è stata trasferita materialmente con un provvedimento. Per beneficiare dei contributi è necessario iniziare i lavori prima del 15 settembre 2020, pena ovviamente la revoca dell'assegnazione. Abbiamo ritenuto, spiega il sindaco Gabriele Giuliano, di impegnare questi fondi per gli interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli spogliatoi del campo sportivo che si trovano in località San Paolo. Abbiamo immaginato anche ulteriori interventi di risistemazione per la struttura di ammodernamento. In precedenza avevamo avuto anche un contributo del Mise di 70.000 che aveva già destinato all'efficientamento energetico del Palazzetto dello Sport, sempre in località San Paolo. Prima ancora ulteriori 70.000 euro per le opere similari a queste che sono stati utilizzati per un progetto di sistemazione delle strade.